Siamo a Rogudi, all'Access Point, in compagnia della formatrice, regista e personal coach Elena Stone. Come è nata l'idea di Working Action? Che cos'è? E intanto grazie per questa bellissima presentazione. Formatrice vuol dire che un po' si fa formazione, un po' si sfrutta quello che è il mondo del teatro, della recitazione per migliorare la comunicazione. E siamo qui a Rogudi proprio per questo, grazie a delle persone che sono state dei pionieri in qualche modo e hanno scelto di portare la formazione qui. Visto che spesso e volentieri bisogna partire, andare a Roma, andare a Milano e riuscire a seguire determinate argomentazioni come questa, quindi la voce, la comunicazione, questa volta si fa qui. E devo ringraziare Giovanni Gualtieri che è stato straordinario nell'aprire veramente le piazze e Leonella Stelitano che ci ospita qui a Rogudi. Quanto la comunicazione può cambiare i rapporti nelle relazioni? Tantissimo. A seconda di come noi guardiamo una persona o utilizziamo il suono della nostra voce cambiano completamente le relazioni, sia professionali, quindi all'interno di un team per esempio, o nei confronti di un cliente o di un paziente se siamo dei medici, ma anche in casa, soprattutto in casa. Quante volte magari diciamo, vai a buttare l'immondizia per favore? Oppure vai a buttare l'immondizia per favore? Cambia il rapporto e cambia la percezione. Nel primo caso è dare un comando, nel secondo è chiedere aiuto. Avete già pensato in futuro di fare dei corsi, di ritornare? Eh sì, perché il corso è numero chiuso, anche perché a me piace seguire le persone proprio da vicino, quindi ogni esercizio, ogni prova è fatta da ognuno dei partecipanti, quindi più di 20 persone non è proprio possibile seguirle in due giorni. E poi ci piacerebbe approfondire, quindi diciamo che ora è comunicazione 1.0, si rifarà esattamente questo corso qui, quindi comunicazione e relazione, a fine settembre, poi da lì si partirà con un progetto un pochino più approfondito, quindi comunicazione 2.0, 3.0, 25.0. Chi vuole partecipare a Working Action, cosa deve fare? Beh, innanzitutto è intelligentissimo, perché ha deciso di fare il primo passo verso una comunicazione efficace, empatica e quant'altro. Quindi immagina che bello se da domani mattina qualunque cosa, diciamo, possa essere accolta e condivisa dai nostri interlocutori. Basta andare su Facebook, cercare la pagina Working Action, oppure iscriversi al gruppo Working Action, che è anche un gruppo dove c'è dibattito, si chiacchiera, si raccontano aneddoti o consigli, oppure www.workinaction.eu. Siamo con l'assessore alla cultura del comune di Rogudi, Leonella Stillitano. Cosa ci fa qui con Working Action? Beh, abbiamo sposato volentieri questo bel progetto, diciamo. Ringrazio Elena Stone per averci coinvolto, ringrazio anche Giovanni Gualtieri. Diciamo che è una bellissima iniziativa, siamo qui non solo per parlare di comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, ma soprattutto come comunicazione, come relazione per migliorare quella che è la nostra vita sociale, la nostra vita familiare e anche, diciamo, professionale. Sicuramente da questa esperienza usciremo con un bagaglio ricco di esperienze che non andranno altro che ad arricchire il nostro curriculum, il nostro bagaglio culturale e formativo. Grazie per essere qui con noi e grazie, ancora, ritorno a ringraziare nuovamente Elena Stone e Giovanni. Perché il comune di Rogudi ha deciso di patrocinare questa iniziativa di Working Action? Bene, il comune ha dato il patrocinio, diciamo, per questa iniziativa perché, secondo appunto noi amministratori, la comunicazione non è altro che una buona forma, una buona ed efficace forma di relazione per migliorare quella che è la qualità di vita, sia professionale, sia amministrativa e sia sociale. Giovanni Gualtieri, responsabile di Working Action in Calabria. Quando la comunicazione diventa azione? La comunicazione diventa azione quando noi comunicando riusciamo ad emozionare le persone in modo positivo. Questa è stata, diciamo, una delle mie, da quando ero piccolo, negatività che avevo e quindi mi ha portato a studiare questo tipo di comunicazione. Come hai conosciuto la formatrice Elena Stone? L'ho conosciuta nel 2013 ad un corso a Torino dove allora c'era uno dei più grandi formatori e attori, Ciro Imparato, e lì ho avuto il piacere di conoscere proprio Elena che è diventata comunque anche certificata del suo metodo. Perché consiglieresti questo workshop? Per migliorare la vita, per migliorare la comunicazione e per essere soprattutto empatici e assertivi. Se nel comunicare ti ritrovi in difficoltà nell'essere capito oppure sei un pochettino legato, fai il corso. È quello che fa per te. Ringrazio comunque Elena per il fatto che sia qui oggi e soprattutto l'assessore Leonella che ci ha permesso di essere qui all'Accesspoint di Robudi. Ringrazio. 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 Grazie a tutti.